Scandaloso. Il governo italiano fatica ad aiutare i nostri giovani che vogliono fare impresa, aiuta invece con un milione di euro i giovani del Nord Africa. Ma non perché facciano impresa da noi, per fare impresa nei loro paesi di origine. Questo è davvero scandaloso. Il emendamento numero 10 del decreto di stabilità dà un milione di euro tramite le università siciliane per aprire delle attività imprenditoriali nei paesi extraeuropei nordafricani. Per noi del Movimento 5 Stelle è veramente uno scempio.